Ciao ragazzi, siamo qua, siamo tornati a Taupo dopo la gara a Hampton Don'ts, sulla via per l'ultima gara, quella di Palmerston North a Manfield. È un po' che non ci sentiamo, quindi volevo chiedervi scusa se non mi sono fatta sentire, però ho avuto un po' di problemi, sono stata anche un po' malaticcia, ma adesso sono guarita. Nel frattempo ho fatto un sacco di cose, ho fatto almeno 3, 6, 9 gare, sono andata a cavallo, ho visto le cascate, sono andata su una barca veloce su un fiume, e ho fatto un sacco di cose nel frattempo. Le gare, vabbè, Timaru è stato un po' un disastro, l'avete visto, Taupo dal punto di vista dei risultati concreti non ho combinato niente, però l'ultima gara avevo il passo giusto, era migliorato molto e a Hampton Don'ts tutto ciò si è concretizzato perché effettivamente il distacco è diminuito e ho fatto la mia gara e ho vinto tutte le mie piccole battaglie e sono stata contenta di tornare di nuovo nei primi 10, anche se in realtà lo sapevate voi prima di me, ma non importa. E niente, adesso purtroppo questo percorso sta per finire, manca l'ultima gara e vi prometto che vi farò un altro video, insomma, o durante le prove o dopo una delle tre gare, dopo tutte le tre, non lo so, insomma, per dirvi come va. Grazie che vi avete seguito fino adesso, continuate a farlo, per favore, che siete veramente molto carini e ho bisogno del vostro supporto e basta, ci sentiamo presto. Ciao ciao!